Il Napoli si getta alle spalle la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid battendo il Chievo-Verona al Bentegodi con un netto 3-1. Dopo la splendida rete d'insigne partecipano alla conquista dei tre punti anche Amsic e Zilinski. Siamo andati a testare gli umori dei tifosi in giro per la città. Alla solita partita il Napoli se l'è giocata, abbiamo vinto, abbiamo meritato, però il problema nostro è sempre la difesa. E' il reparto peggiore della nostra squadra. Diciamo che dopo una partita di Champions giocata a Bernabéu credo che abbia dimostrato una maggiore maturità. Una bella risposta alla sconfitta al Bernabéu, un Napoli autoritario con tutti i suoi effettivi al massimo, un grande prova di insignia. Un po' Pavoletti che ancora si deve ambientare, l'unica incognita. Mi ha impressionato molto Milik che ha avuto una capacità di giocare la palla che all'inizio del campionato non aveva tanto dimostrato. Quindi sta in forma, è una buona notizia. Una partita di tutt'altro livello, ovviamente per la qualità dell'avversario. Però il Napoli ha dimostrato quanto di buono l'aveva fatto vedere fino ad oggi, nell'ultimo periodo. È stata una bella vittoria perché dopo la sconfitta di Madrid e le parole del Presidente non era facile, nonostante il campo ostico di Veruna. Una bella affermazione abbiamo fatto. Speriamo bene per il proseguo della stagione. Mi riferisco al 7 marzo. Sempre forza Napoli.